Da testimoni a persone sottoposte a indagini, per aver riferito il falso al giudice per le indagini preliminari nell'ambito della più vasta inchiesta sulla comproventa dei voti, che portò 5 persone sotto processo, accusate a vario titolo di favoreggiamento personale e violazione della legge elettorale, la condanna a 10 mesi per una sesta persona che optò per l'abbreviato. Il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Gerardo Dominiani, ha chiesto di invia giudizio a carico di Giuseppe Rotundo, Salvatore Loprete, Francesco Merino e Marcella Astorino, per i quali si ipotizza il reato di falsa testimonianza. Tutti e quattro avrebbero negato, contrariamente al vero, che Ferdinando Tomaselli avesse offerto loro un posto di lavoro in cambio del voto all'aspirante consigliere Leone, per il quale è in corso il dibattimento. Ferdinando Tomaselli è colui che in qualità di supporter avrebbe garantito, in occasione delle elezioni comunali del 6 e del 7 maggio 2012, una valanga di voti all'allora candidato Francesco Leone, che alla fine si aggiudicò a uno scranno a Palazzo De Nobili. Fu lo stesso PM, titolare delle indagini, a chiedere nel corso dell'incidente probatorio la restituzione degli atti in procura, per valutare eventuali ipotesi di reato, dopo aver ascoltato la deposizione contraddittoria dei testi. Adesso la parola passa al gruppo che nel contraddittorio tra accusa e difesa dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di mandare processo agli indagati.